Le differenze tra calcio inglese e calcio italiano sono sicuramente il ritmo di gioco e il fisico che mettono in ogni partita e in ogni contrasto. Ognuno vede il calcio come vuole, gli inglesi lo vedono più come passione e magari divertimento, gli italiani è una cosa molto più tattica. L'allenamento è parecchio diverso direi, cambiano metodi di lavoro, esercizi, strumenti, cambiano parecchie cose. La motivazione la trovo in me stesso, la trovo negli obiettivi che ho nel futuro, ho lavorato su me stesso, sui miglioramenti e la convinzione e la fiducia in me stesso è cresciuta e adesso ci credo fino alla fine.